Buonasera e benvenuti al nostro consueto appuntamento con il telegiornale Per i Sordi. I gnoti hanno cercato di dare fuoco alla sede della Lega a Firenze. Lo riferisce su Facebook il segretario comunale del partito Federico Bussolin. È accaduto nella tarda serata di ieri, mentre spiega alcuni di noi erano dentro per una riunione. Abbiamo spento subito la fiamma che dalla foto postata su Facebook ha interessato la campanelliera. E su questo episodio sono in corso indagini da parte della Digos su questo attentato incendiario. Ha ricevuto la denuncia, la Digos sta acquisendo le immagini riprese dalla telecamera della zona, sia pubblica sia privata, per individuare chi abbia agito dando fuoco al citofono della sede politica della Lega. La sentenza del processo di appello bis per la strage di Viareggio del 29 giugno del 2009, confermando le condanne, dimostra che per la sicurezza ferroviaria in Italia non era stato fatto quanto dovuto. È ciò che ritengono i familiari delle 32 vittime che stamani hanno commentato l'esito in una conferenza stampa. La Polizia ha eseguito stamani il sequestro finalizzato alla confisca di beni riconducibili ad esponenti di un clan di Camorra, i Cuomo di Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, finito al centro di un'inchiesta della Procura di Firenze per usura ed altri reati, anche associativi. Il procuratore ed il questore di Firenze hanno richiesto e ottenuto la misura di prevenzione patrimoniale disposta dall'Ufficio Misure di Prevenzione del Tribunale Fiorentino. Sequestrati, una palazzina di tre piani a Nocera Inferiore, quattro auto, due motociclette, conti correnti, un deposito titoli, un fondo di investimento, quote e beni che compongono il patrimonio aziendale di almeno tre ditte riconducibili a Luigi Cuomo, 40 anni, attualmente detenuto nel carcere sardo di Nuoro. Il PD ha una forza espansiva ancora molto grande. Siamo nei sondaggi poco sotto il 22%, possiamo arrivare al 30%. Questo, se ci scrolliamo di dosso i veti incrociati, se non perdiamo tempo ed energie, ad inseguire da un lato Conte, dall'altro Renzi, poi Calenda e gli altri. Se il PD mantiene questa linea, parla al Paese Reale, recupera lo spirito che fu dell'olivo, ovvero la concretezza e la passione, e può arrivare al 30% e da allora diventa un catalizzatore anche della coalizione larga. Lo ha detto stamani il sindaco di Firenze, Dario Nardella. È fisiologico nel ruolo di un sindaco quello di dare un nuovo sprint alla Giunta quando ritiene opportuno, chiamando nuovi assessori, mi sembra che siano due persone esperte e conosciute. Così il presidente della Toscana, Eugenio Gianni, che ha commentato oggi il rimpasto della Giunta Comunale di Firenze del sindaco Nardella. Voglio dire, signori, se il Governo ha deciso e a voi non vi va bene, protestate, attivatevi nei confronti del Governo, ma io penso che la cosa migliore sia nel momento in cui, ho visto che la decisione è nata da atti ormai inconfutabili, dire che se si porta per due, tre anni il rigassificatore nel porto, cerchiamo di avere quello che da tempo cerchiamo, infrastrutture, bonifiche, energie rinnovabili, sostegno alle attività produttive, valorizzazione del turismo e sconto delle bollette. È questa la chiave con cui affrontare la questione. Lo ha detto sul rigassificatore di Piombino il presidente della Toscana, Gianni. La contrada della Chiocciola ha vinto la quarta prova in piazza del campo a Siena con il fantino Zedde detto Gingillo ed il cavallo Zentile in vista del palio del 2 di luglio dedicato alla Madonna di Provenzano. Alla partenza ottimo spunto della contrada del Leocorno che ha mantenuto la testa fino alla seconda curva del casato quando è sopraggiunta la Chiocciola che poi ha gestito la prima posizione fino alla fine del terzo giro. Giuseppe Carta è stato nominato ambasciatore della creatività di Pietrasanta in provincia di Lucca. Il prestigioso titolo è stato conferito all'artista di Banari in provincia di Sassari dal comune amministrato dal sindaco Giovannetti ed è stato attribuito durante una cerimonia nel centro della piccola Atene della Versilia. Credo che sia fondamentale lavorare sui distretti anche con una regia coordinata per promuovere tutto un territorio nella sua storia nei suoi valori e nelle produzioni ma per avere i fondi dell'Unione Europea bisogna mettere in piedi una progettualità che abbia poi la capacità di arrivare in fondo. Lo ha detto Stefania Saccardi vicepresidente della Regione Toscana con delega all'agroalimentare che è intervenuta alla prima assemblea nazionale della consulta dei distretti del cibo. Torniamo alla cronaca rapina in una tabaccheria a Via Reggio in provincia di Lucca in via Coppino questa mattina verso le 11 dove un uomo coperto con una maglietta ha portato via i gratti e vinci ed è fuggito a piedi avrebbe colpito con un pezzo di legno lo spazio protetto del locale per arraffare i tagliandi a premi. Ha versato una caparra di 500.000 euro ad un oligarca russo per una villa a Forte dei Marmi ma l'ex calciatore, ora allenatore Andrea Pirlo è rimasto beffato perché la villa è stata sequestrata la notizia è stata confermata oggi dal quotidiano romano Il Messaggero La pandemia vista da due estremi della vita gli anziani ed i giovanissimi è questo il contenuto di Confronti Virali il libro realizzato dai pensionati della Cisle di Firenze Prato che sarà presentato lunedì 4 di luglio a Firenze in un incontro in cui prenderanno parte la retrice dell'Università Alessandra Petrucci e la reggente della FNP Cisle nazionale Daniela Fumarola e a proposito di Covid ecco i dati di oggi si registrano in Toscana 4.547 positivi l'età media 49 anni i decessi purtroppo sono stati 6 e siamo in conclusione alle previsioni del tempo per domani in Toscana il cielo sarà sereno salvo modesto sviluppo di nubi in Appennino nel pomeriggio venti deboli variabili di brezza lungo la costa mari poco mossi temperature massime in ulteriore aumento che toccheranno nel weekend anche i 39 gradi ed è tutto per questa edizione grazie di essere stati con noi a domani